In tutta Italia con gli eventi gratuiti. Sono già oltre 600 le persone che sono venute in questa prima parte già in Sicilia e poi al nord Italia, alcune date in centro e adesso ci sono tutte le nuove date di maggio. Allora Piacenza, Milano, Bologna, Cesena e ancora Ancona il primo giugno. Ti aspetto perché sono eventi gratuiti dalle 20.15 fino alle 22.30 a 23 ed è molto importante a parte perché faremo delle discussioni insieme, poi parleremo di tutte le tematiche che riguardano l'evidenza scientifica applicata a sport e fitness e poi ovviamente ti lascerò qualche cosa di importante da portarti a casa per cercare di capire come migliorare gli allenamenti se tu sei un atleta e come ovviamente cercare di ottenere migliori risultati se sei un personal trainer o un allenatore. Questo basandoti su evidenze scientifiche, quindi non su tabelle spacciate magari in giro, copia in colla da qualche parte, ma io ti insegno a capire da ogni tabella perché si fanno determinati set, perché si aggiungono e si modificano i recuperi, che cose influenza, gli adattamenti fisiologici sulla base di un recupero più o meno corto, attivo o passivo e quant'altro e poi verificare tutto quello che è importante per la nutrizione, per il recupero eccetera eccetera eccetera. Insomma ti aspetto, non dimenticare Piacenza, Milano, Bologna, Cesena e Ancona il primo giugno. Ti aspetto, ciao!